Allora, il primo brano che vado a presentarvi è La Gumparsita, è un tango, dicono che sia il più suonato, il più eseguito al mondo. È un brano del 1917 ed è di Gerardo Matos Rodriguez ed era un uruguaiano, quindi il nostro aereo decolla dall'Uruguai per l'America Latina. La Gumparsita. Grazie. 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 Grazie.